Allora ragazzi, nell'ultimo video abbiamo visto come impostare un conto predefinito, un conto impostato nella demo di Interactive Brokers, in particolare nella Trader Workstation. Ho impostato il mio conto iniziando il mio percorso a 10.000 dollari, come vi ho detto 10.000 non è una cifra casuale che ho scelto così casualmente, ma secondo me è un entry point, poi non secondo me, secondo anche i suggerimenti che mi sono andato a studiare nel settore, soprattutto per operare in opzioni e poi ho cominciato a constatare con mano con i miei esperimenti del perché dicono che appunto è un entry level quasi minimo. E sotto il quale ci limitiamo troppo e andiamo paradossalmente ad aumentare il rischio se mettiamo di meno. E perché? Questo lo voglio farvi vedere, voglio farvelo vedere direttamente con qualche esempio pratico, appunto andando a vedere direttamente sulla demo. E sto parlando comunque di 10.000 dollari che sono circa 8.700 euro. Questo per fare un grande disclaimer per tutti coloro che vogliono magari iniziare a operare in opzioni o comunque sul trading, anche trading appunto online, pensando di poterlo fare con cifre più basse, magari farlo con cifre sotto i 1000 euro. Ecco, questo è altamente sconsigliato. Perlomeno io mi sento di sconsigliarlo da quello che sto vedendo e da quello che mi dicono anche i professionisti. Quindi io ancora una volta vi invito a installare la demo così che potete operare in paper trading senza utilizzare un conto reale e iniziare con un conto che sia almeno di 10.000 dollari. Andiamo a vedere perché. Questo che ho alle spalle adesso è il grafico, l'andamento di Apple, quindi le azioni, il prezzo per azione degli stock Apple. Al momento Apple si attesta a 224 dollari circa. Quindi andiamo ad aprire la nostra trader workstation che vi ho fatto vedere l'altra volta e andando a vedere quelle che sono le opzioni vado ad aprire una nuova scheda. Vado a cercare appunto Apple, seleziono sempre tramite la ricerca smart implementata nell'applicativo. E questo è il ventaglio appunto di opzioni che ho per quanto riguarda Apple. Ecco, noi mettiamo il caso adesso non andrò a fare uno studio ben fatto, andrò a fare un esempio come se noi avessimo per esempio trovato un certo supporto teorico nel time frame che ci siamo prefissati a 217 dollari. A quel punto io mi sono messo in testa che secondo i miei studi, secondo appunto le analisi sia fondamentali che tecniche che ho fatto, 217 può essere un supporto e quindi voglio andare a vendere una put a 217 dollari. Ecco qui, abbiamo questa put ad esempio a 217 dollari e quindi che cosa faccio? Me la vado a mettere nella mia dashboard. Vediamo qui che abbiamo questa put con scadenza a time frame settimanale, quindi scadrà venerdì 12 ottobre. Ovviamente poi possiamo selezionare le diverse scadenze. Andiamo a vedere come viene calcolato il nostro premio e andando a vendere questa put, che appunto come detto andrò a operare principalmente sulla vendita di put, andiamo a vedere i dettagli della cosa. Ci dovremo per la vendita di questa put, quindi a scadenza tra una settimana. Oggi io sto registrando questo video che è domenica, quindi i mercati sono chiusi e riapriranno domani. Avrò una commissione da pagare sulla piattaforma di circa 1,59 dollari e il mio premio ammonta a 90 USD, 90 dollari. Per fare questa operazione mi si richiede, quindi qui è calcolato quello che è il mio capitale al momento in liquidità, quindi il valore di equazione netto al momento e quanto andrà ad aumentare. E qui invece la cosa che ci interessa, il margine. Il margine che mi viene richiesto post trade è appunto di 7.857, considerando comunque il valore già delle azioni, in caso io debba comunque acquistarne. Mi vengano comunque assegnate se andassi a prendere lo strike, cioè quindi se l'azione andasse a cadere di prezzo. Ecco, in questo caso io potrei comunque fare questa operazione perché con una mia liquidità di 10.000 dollari, in questo caso il mio capitale viene calcolato per appunto 25.799 dollari. Io andrei a coprire con il mio margine un quantitativo sufficiente appunto per fare questa operazione e potrei permettermi di fare altre. Perché comunque io cerco sempre di mantenere il mio margine, poi andremo a vedere più avanti, circa il 50% del capitale totale e quindi potrei tranquillamente fare questa operazione e permettermi di farne altre, ok? Questo è un esempio, prendete proprio il buono così se non siete più avanzati nell'aspetto. Adesso però vi voglio far vedere un altro discorso. Se io ad esempio stessi studiando come sottostante quello che è Amazon. Allora, Amazon ha un prezzo abbastanza elevato per azione, così come lo ha Alphabet, quindi Google. Al momento si trova a 1.889, ripeto, a questo momento qui i mercati sono chiusi quindi questo prezzo non cambia adesso. E io, secondo una mia analisi, ho studiato che ho visto un supporto, diciamo che penso di aver visto un buon supporto attorno ai 1.770 dollari, diciamo. Ecco, adesso non sto facendo ovviamente un'analisi né tecnica né fondamentale, ma sto facendo solo degli esempi per farvi capire. Allora, io vorrei fare un'operazione a 1.770 dollari. Andiamo a vedere cosa succede. Con un prezzo di azione più alto. A questo punto Amazon già ce l'ho aperto qui. Andiamo a vedere quelle che sono le azioni appunto a 1.770. Eccola qui. Questa è sempre una put con la stessa scadenza. Quindi è scadenza al 12 ottobre. Andiamo sempre qui a vedere una vendita di questa put qui. Vediamo cosa succede. Ecco qui che già la piattaforma ci dà un alert, ci dà un avviso e ci dice il suo ordine non può essere accettato perché le sue azioni, con valore del prestito a 26.303,91 dollari, sono insufficienti per coprire il requisito di margine iniziale, che è 30.586,62 dollari. Andiamo a vedere quelli che sono i dettagli. Qui la commissione non ce l'ha da perché appunto non ci farà fare l'operazione. Quello che sarebbe il premio sarebbero 595 dollari. Quindi già un premio più sostanzioso. Perché? Perché noi stiamo giocando su un margine più alto. Ovviamente l'azione costa di più, quindi il rischio di essere assegnato su questa tipologia di azione è più alto. Per un valore totale, se noi dovessimo essere assegnati e comprare completamente le azioni, uno stock da 100, al prezzo di 1770 dollari, vorrebbe dire che noi dovremmo, se venissimo assegnati, dovremmo sborsare, in teoria, senza aiuto appunto di un broker, 17.700 dollari. 17.700 dollari noi abbiamo adesso un'equività impostata a 10.000 dollari. Quindi, in ogni caso, sembrerebbe impossibile questa operazione. In realtà è quasi fattibile perché poi noi andiamo a operare in leva e noi andiamo solo a impiegare un po' di margine e tante volte appunto la piattaforma ci va a fare delle operazioni che possono essere operate anche se noi non abbiamo la liquidità completa. In questo caso però, in ogni caso, l'azione è troppo costosa e il margine richiesto in totale, noi veniamo calcolati con un post-trade di liquidità, calcolato sulla piattaforma, di 26.300 dollari, considerando appunto anche un'eventuale assegnazione. Mentre invece abbiamo, per fare questa operazione, bisogno di un margine di 30.500, che non solo è più alto, quindi è proprio impossibile un'operazione da fare, ma in ogni caso, se noi pure volessimo operare su questo tipo di azioni e andessimo ad avere un margine che comunque rientrerebbe nella nostra liquidità totale, sarebbe comunque da foglio, comunque da scommettitori, andare a fare un'unica operazione con un margine che impiega quasi tutta la nostra liquidità. Ecco, queste sono operazioni che assolutamente non andrebbero fatte, perlomeno da quello che sto imparando, perlomeno anche un po' il senso logico della cosa, fare solo un'operazione a altissimo rischio che ci comprometterebbe qualsiasi altro tipo di movimento. Ecco, questo è un esempio pratico per farvi capire, perché un budget più basso ci dà un impedimento sulle operazioni che possiamo fare. Già ci esclude a prescindere quindi operazioni ad esempio su azioni che costano di più, come Amazon, come Alphabet, ripeto, quindi Google, e dobbiamo operare su azioni, parlando sempre, io parlo del Nasdaq, perché comunque è il mercato che si avvicina più alle mie conoscenze tecniche, quindi ragiono più su quello così ho un ragionamento facilitato per quanto riguarda il sottostante. Ma in ogni caso, quindi è un'analisi fondamentale, ma in ogni caso dovrò sempre operare su azioni che al massimo si aggirano verso i 200 dollari, quindi come Facebook, come Apple, e magari appunto su azioni più piccole e con quotazioni più basse, come ad esempio Twitter. E non posso permettermi di fare altre operazioni, anche se magari queste operazioni qui andrebbero a fornire il mio portafoglio di opzioni, quindi le mie posizioni, in modo più differenziato, in modo tale che io posso in quel caso abbassare il rischio perché differenzio su uno studio più ampio. Se invece sono limitato già a prescindere su pochi sottostanti, io devo obbligarmi magari per avere un determinato profitto ad operare per forza su determinati sottostanti, anche se magari non avrei voluto farlo, e quindi ci andiamo a mettere un auto handicap, perché? Perché è dovuto da un budget più ridotto. Questo è il discorso per il quale un budget addirittura più basso dei 10.000 ci escluderebbe già altre operazioni. Se noi ad esempio entriamo con un 2.000 che forse è il minimo adesso accettato dalla piattaforma stessa su un conto reale, ecco noi già andiamo a tagliare addirittura pure le operazioni su Facebook, su Apple, in questo contesto qui. E dovremmo muoverci ad esempio solo su Twitter. Che succede se su Twitter non è un buon periodo per operare? Noi andiamo a aumentare il nostro rischio solo perché siamo limitati al budget. Per questo vi dico che da quello che ho letto e da quello che sto vedendo, da poco che appunto sto imparando, ma lo sto mettendo in pratica giorno per giorno, partire con un minimo di 10.000 è appunto un requisito che difficilmente va messo più basso. Questo è il discorso. Spero di essere stato chiaro, ovviamente sto sperimentando anche io queste cose, quindi lasciatemi anche le vostre critiche, i vostri commenti su questo discorso, ma bene o male è l'idea che mi sto facendo passo per passo. Adesso andrò a svilupparla ancora sulla demo. Come detto, vi ripeto ancora una volta, io non sto facendo un corso a pagamento. Qui sto andando ad analizzare i passi base, le mie idee applicate ad una piattaforma che vi sto facendo vedere, in una modalità demo, quindi senza andare a impiegare dei soldi reali, facendo vedere il mio percorso di crescita, di studio e di ragionamento. Se la cosa vi piace lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti!